Le indagini erano scattate diversi mesi fa quando a Palermo venne bloccata e poi sequestrata un'auto condotta da un senegalese. A bordo erano state trovate infatti 5.000 etichette, tutte con il logo contraffatto di diversi marchi di moda molto noti, da Adidas e Nike fino ad Armand & Blaine, pronte per essere apposte su prodotti da immettere sul mercato clandestino. Da quella scoperta sono partiti così gli accertamenti che hanno condotto i militari della Guardia di Finanza all'appartamento nel cuore del quartiere popolare di Ballarò. Una casa trasformata in un bazar del falso ma anche in un vero e proprio laboratorio per il confezionamento di abiti e accessori taroccati da immettere sui mercati paralleli. Dentro l'appartamento i finanzieri hanno trovato migliaia di borse, scarpe, cinture e portafogli con i marchi di lusso come Gucci, Prada, Chanel e Louis Vuitton tutti abilmente contraffatti e ancora capi di abbigliamento maschile e femminile da Moncler a Lacoste e accessori dagli orologi agli occhiali anche questi di marchi molto noti da Dolce Gabbana a Chanel fino alla Rolex. C'erano persino tra i prodotti falsificati anche biancheria intima e costumi da bagno. Il tutto già perfettamente assemblato nelle confezioni e pronto per essere immesso sul mercato nero palermitano dove avrebbe fruttato qualcosa come 100.000 euro. Il laboratorio clandestino è risultato gestito da un uomo di 31 anni senegalese che è stato denunciato alla procura per fabbricazione e commercializzazione di materiale contraffatto e ricettazione, denunciati anche altri due suoi connazionali ritenuti coinvolti nell'attività.